Antonio Galizia, 57 anni, ex comandante stazione Carabinieri di Giovinazzo, attualmente in servizio provvisorio presso il nucleo comando Compagnia Carabinieri Molfetta, sei sono le liste che lo sostengono, Popolo della Libertà, Futuro e Libertà per l'Italia, Unione di Centro, Io Sud, Movimento Politico Schittulli e Giovinazzo Città da Mare. A proposito di questo candidato sindaco mi è ora raggiunta una telefonata, impegni inderogabili politici, la presenza questa sera del sindaco di Roma Alemanno e di Mantovano lo costringono a non poter presenziare. Pregherei di fare silenzio in sala, non siamo all'arena di Giletti insomma, quindi ognuno ovviamente trarrà le dovute conclusioni, è inutile che a noi avrebbe fatto molto piacere avere anche lui qui presente, però come si dice la parte nostra l'abbiamo fatta, l'abbiamo sollecitato con più telefonate, ovviamente come dicevo ho ciascuno le sue conclusioni, però vi prego insomma di mantenere un clima non da stadio ma appunto da sala teatro. Quindi dicevo, ci ha comunque detto che nel caso dovesse liberarsi sarà sua primura raggiungerci, magari in ritardo noi non abbandoniamo la speranza che possa farlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.